Questo programma è presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore. Buongiorno! Buongiorno! È entrato così di sfondamento il regista, sembrava un giocatore di regole. Vi mettete le bucchie! Ehi Federico Semplice, buongiorno con delicatezza anche a te. Avanti! Buongiorno Elu! Buongiorno Nani! Buongiorno mondo! Raggio di luce, più che di luce, di sole, a profusione a tutti quanti! Senti l'app su Spruidiano che stavo per... Ma bellissimo, questo effetto, diciamo che è di Star Wars. Buongiorno Tiziano Gonnella! Senti la gaff, è una bellissima giornata di sole, mi è venuta, è una bellissima Giordano! E se devi tirare sempre l'acqua col suo mulino, bellissimo Giordano! Questa la dice molto lunga sui problemi! No, 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 problemi forti! Allora, ieri sera io e Luigia, siccome siamo amiche e compagne di Scorribanda, oltre che... Mo, 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 cominci con le parolacce! Ho detto per piacere contieniti che ci ascoltano in tanti! Scorribanda, non Scor... Che simpatia! Ieri siamo uscite, che cosa abbiamo fatto? Ci siamo fatto un giro in centro! A divertire, proprio assai, assai, assai! Un giro! È un giro lunghissimo, è durato un minimo... Che a tre quarti d'ora sarà durato, un'ora? Non so, praticamente, in quel giro attorno al palazzo avremmo fatto, che ne so, un 150 chilometri! Perché volevamo lasciare la macchina vicino al punto, diciamo, dove stavamo andando, praticamente, questo ristorante-pizzeria! Perché dentro noi lasciamo il cane da guardia, Tessina! La nostra piccola Tessa! E allora cercavamo questo posto ridendo, perché noi prendiamo sempre... ce la prendiamo sempre comica! Oh, ma ieri sera che avete fatto? No, ieri sera abbiamo fatto un giro! Ah, e dove? Intorno a un isolato! No, però poi ce l'abbiamo fatta! E a proposito, salutiamo Gianni, Titti, Luciana e Gabriella, che contribuiscono al nostro sovraccarico calorico! Che ci tengono a nostra fisicità! Ma io volevo fare gli auguri alla mia piccola figlia pelosa, Wendy! Wendina, oggi fa 5 anni! Auguri, amore! Auguri, Wendy! Amore! Dobbiamo vestire Tessa da Marilyn Monroe e dobbiamo farle fare... Eccola quanto è bella! Per i radioascoltatori stiamo rimirando e ammirando la bellissima Wendy col pelo lungo, lungo e folto folto! Oggi per regalo va alla toilettatura, abbiamo appuntamento alle 17 e si va a fare bella, perché poi stasera uscirà con i suoi amici, vanno a bere una cosa! Una ciotolina in centro! Certo! Quanto è bella! Va bene, allora a 080 501 9998 per messaggi, whatsapp e quello che volete e... Oppure 080 501 4668! Dunque è arrivato il momento della preview del gioco! Yeah! Io sinceramente non ho capito, però mi sembra anche giusto che sia un po' più difficile... Io non sono ancora riuscita a rubare il foglietto a Tiziano Bonnella per vedere quali sono questi titoli, diciamo, questi cantanti... Tiziano l'ha fatto apposta e ha fatto bene, perché tu dai troppi, troppi suggerimenti! Eh, ma io so, ho capito il personaggio, basta che vengo qua con una feta di parmigiana e diciamo, lo distraggo! Ma quello, guarda che ti stai confondendo con me! No, pure lui una buona forchetta, tranquilla, tranquilla! Evviva Tiziano, evviva le buone forchette! Tra l'altro, una piccola riflessione di stamattina, vedendo un post su Instagram di Vanessa Incontrada, a proposito di buone forchette, e vedendo poi la pubblicità di una casa di intimo molto famosa al mondo, stanno finalmente passando, come bellissime perché lo sono, le donne molto formose! Oh, ci piace! Cioè, finalmente! Mangiamo! Mangiamo, perché anche noi possiamo fare le fotomodelle, basta! Basta con queste ragazzine essili così, che devono nutrirsi solamente di uno spicchio di vela! Basta! No, ma al di là di questo, non è solo per quello, perché a noi fa gioco, perché non ci interessa fare le foto male, ci interessa mangiare, come se non ci fossero domani! Scusate, ma vengo! Eh, dove vai? Che succede? È caduto il foglio! Ah, per i radioascoltatori, lui già si è appena piegata per prendere un foglio! È caduto! Questa è l'SMR! O me lo prendevo io, o me lo prendevo io, diciamo! Come fa il foglio? Così si fa Federica! Federica Semplice è la splendida che sta qua con noi e mi ha finalmente detto come si chiamano queste cose dei rumori! S.M.R. C'è tutto un mondo! Ho suggerito a Luisa di farlo con le retrovie e non vuole! Va bene, stavo dicendo... Perché è più brava lei! Sì, infatti, però, 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 vi stupiremo con effetti sonori speciali, poverini! E, subito, stavo dicendo questa cosa per concludere la cosa delle donne formose, finalmente, perché la bellezza non è magrezza, la bellezza è bellezza appunto! Vedete noi! Vedete noi! E adesso è il momento del fantastico proverbio! Questa musichetta ci rappresenta alquanto, io mi immagino noi due in lingerie che facciamo un balletto... No, io mi immagino a me! Sul mare, sul mare, ho detto io, sul mare, attenzione, in mare! Ebbene, il proverbio è mantenetevi forte perché lo sapete che io ne so una più del diavolo! No, c'è la verità, me le vado a cercare più che altro! Beh, beh! Allora, il proverbio di oggi dice... Alla sera le 1, alla mattina... Ho dovuto correggerla, ho scritto citrune... Ti ricordi quando lo sentivo? Mi sono molto ricordata, è la prima volta che abbiamo sentito questo proverbio, l'abbiamo sentito nella maniera giusta, siamo rimasti poeticamente così! Però abbiamo riso, anzi ringraziamo quella dolcissima e raffinatissima donzella che ci disse questa cosa che significa la mattina... Cioè significa alla lettera la mattina le 1, la sera... La sera le 1, la mattina... La mattina... La mattina cetriolo! Cetriolo 1! Allora, detto per tutte quelle persone che vivono di notte, ritornano tardi a casa e dunque la mattina, avendo poche ore di sonno o nessuna, sono intontiti e poco concentrati! Madonna, com'è elegante! Io ricordo adesso, sto contestualizzando quando lo sentimo, ti ricordi? Lei lo diceva al suo marito in vacanza, in Egitto stavano a Shalom... Sì, lo diceva dalla finestra dell'alberto! Che ridere! Dopo che questo qua aveva passato la notte a bere... Lei le gridò con amore... Eeeh! A te! La mattina! La mattina! La mattina! La mattina! La mattina! Musica! Bravissimo! Liusci a leggere il cervello... Nella mente! Che cos'è? Tadahola! 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 In onda! In onda! Siamo? Sì, siamo in onda! Uuuuuh! Ciao, è bello questo pezzo che tra l'altro veniva utilizzato come sigla di Zelig, vero? Sì, sì, sì! Tomano, ma non so se avete sentito praticamente la perfetta edizione di come si pronunciava il titolo... Tadahola! Dalla dolce nani! Tadahola! Io li faccio di tutta lì, i titoli, soprattutto quelli stranieri! Questa, praticamente... Tadahola! Ah, Fit Manu Ciao, pensa! Non lo sapevo! Sì, è venuta a mangiare a casa l'altro giorno, madonna, veramente! Guarda, ha detto complimenti perché cucina la grande tu, ragazza! Manu, ciao! Si chiama Manuela, allora! Manu, ciao! E insomma, niente... Senti, ritornando al discorso di prima di questi proverbi anche detti in dialetto baresco, perché sono i nostri proverbi... Che bello! Ti volevo dire che qualche giorno fa mi è capitato, mi è venuta in mente questa cosa, ero con mia figlia, uscivo da un bar di Poggio Franco e venivano verso di noi queste due persone, queste due signore, più o meno, avevano un po' più di 70 anni, no? E quindi si sono guardate tra di loro, dopo che mi hanno visto, stavano commentando, sorridevano... Parlottavano, parlottavano! E io ho continuato a parlare con mia figlia. Quando ci sono avvicinate, la signora... Io sono parlato con mia figlia, ovviamente parlava in italiano, non è che... Cioè, non è che parli in dialetto! E può anche... Ci può anche essere la... E seppure capita chi se ne frega! No, ma ci può anche essere la parola in dialetto, però stavo facendo un discorso con mia figlia in italiano. La signora così, con il sorriso, avvicina... Eh sì, ma... Mo... Mo sta a parlare italiano! Io lo guardavo... Te l'ha detto in perfetto italiano, lei, no? Però lei l'ha detto così, l'ha detto così... Sì, infatti... Mi ha detto, guardi signora, che io parlo anche italiano! No, io parlo anche dialetto! Tu vuoi dire quella là! No, parlo anche italiano! Perché voglio dire, non è che... Per arrivare a dire che bisogna anche distinguere la persona dal personaggio... Infatti... Quindi, parliamo italiano, parliamo il dialetto, parliamo... L'inglese, arabo... L'inglese maccheronico, però... Maccheroni? Hai detto maccheroni? Che ha detto maccheroni? E quindi, voglio dire, l'altra signora che era un po' più diplomatica ha detto... No, 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 è breve, è breve... Beh, vabbè, buonasera, rivedete! Voi dovete finire... Cioè, dovete farlo questo distinguo, come dice l'uomo... Ma dai! Vabbè, sta a parlare pure l'italiano... Eh? Eh? E lo volevo dire questa cosa... Comunque, le saluto queste due signore, nel caso ci stessero guardando... No, secondo me hanno ciampato e sono cadute... Chissà, chissà... Allora... Va bene, noi dobbiamo fare un giorno di queste, magari, o lo diciamo... Dobbiamo parlare della discriminazione in generale... Visto che prima ci è capitato di parlare della discriminazione eccofisica... La discriminazione è una porcheria... Per esempio, parlavamo con la splendida Federica, che è qui... Federica Semplice, che purtroppo non si vuole far riprendere... Giusto per allietare, insomma, gli occhi del telespettatore, ma niente... Non lo vuole fare... Voglio dire... Ce la faremo... Un giorno la imbavagliamo e la mettiamo davanti alle tre camera... Un giorno di qua la tiriamo per capelli... Per capelli bellissimi, lunghi, lucidi... Mamma mia, è stupenda tutta... E ha detto, ha riferito di un suo vecchio amico, tanto tempo fa... Che per essere omosessuale, semplicemente gay... Si è suicidato perché non veniva accettato dalla famiglia, dagli amici... Noi dobbiamo aprire qualcosa, insomma, dobbiamo battere su questo argomento... Cioè, voi matti omofobi, matti stupidini... Cioè, veramente, perché siete dei poveracci, fondamentalmente siete sciocchi... Vi manca qualche grammo di cervello se fate discriminazione... Cioè, voi dovete stare molto attenti... Ma lui già ha detto questa cosa, parlava anche in italiano... Però anche quello è discriminazione... Perché le persone sono come oggetti di cristallo, secondo me... Quando ci si muove nel mondo, si dovrebbe pensare di muoversi in una cristalleria... Preziosi di cristalli molto pregiati... Ma perché poi bisogna dire la verità... Ci sono persone alle quali alcuni commenti scivolano... Io sono una di quelle, non me ne frega niente... Se uno dice, c'hai qualche chilo in più... Hai la parola in dialetto... E hai... No, a me non interessa... Invece ci sono persone che invece ne rimangono colpite... Ne soffrono tantissimo... Certo... Tu sei grossa... Questa cosa di... Tu sei grossa... Ma ci te ne frega... E tu si scende... Ci sono grossa... Dovremo imparare a rispondere a questo... È un problema... È un problema, voglio dire, che... Se a me non me ne frega niente... O comunque... Può anche interessare... Però io non riesco a dimagrire... Perché andare a mettere sempre... Esatto, a proposito della incontrata... Il dito nella piaga... Per cosa? Però aspetta, aspetta... Blocca ti stop... Frizzati un attimo... No, scusami Lu... Mi sto frizzando... Siamo già in ambito... Ma tu ci leggi nell'anima... No, che... Tu devi venire a casa... Domenica... Che mi aiuti a far pure pulizia... Ma vengo... L'autopulata... Tolleranza zero... Madonna, santa... Guarda... E che ciapperi... Noi abbiamo tolleranza zero... Dovremmo averla tutti noi del globo terraqueo... Umani, sapiens... Per questa minuteria di gente... Diciamo così... Vacante... Per questi decerebrati... Che usano ancora... Fare della discriminazione... Il problema non solo verbale... Mentale... Raga... Nel 2022... Ma dove andrà... Quasi 23... Ma dove vi presentà... Cioè uno non è libero di essere omosessuale... O transgente... O di essere grosso... O di essere magrissimo... O di essere fluido... O di essere quel cavolo che gli pare da essere... Prendetevi una clava... E andatevele sopra un'isola deserta... E mezza mare... Ma no... Andatevi curare... Andatevi in terapia... Perché probabilmente... Non si può più curare niente... Sappiate una cosa... Voi omofobi... E voi che fate... In generale... Cioè dopo che mi ha detto questa cosa... Voglio dire... Un ragazzo che non è il primo... Che si suicida per un disagio del genere... Come donne... Ragazze che vengono bulizzate... Si suicidano... Perché sono grazie... Oh... Allora voi... Sappiate questo... Quando discriminate... Sapete che c'è... Che voi siete quello... Che voi discriminate... Sappiate che quando uno mette l'accento... Su una cosa del genere... Tipo... L'omofobia... È fortemente omofobo... Fortemente violento... Fortemente... Razzista... O forte... In realtà... Lui... O fortemente... Disgustoso... Nei confronti dell'altro... Lui evidentemente... Ha dei problemi seri... Di presenza... Cioè... Non accetta la sua vera natura... Tutto qua... Quindi... Perciò... E dopo di che... Comunque... Volevo dire... Abbiamo un vocale... Abbiamo un vocale... Sì... Tutti abbiamo un vocale... Tutti abbiamo un vocale... Buongiorno Annabella... Buongiorno Luigia... Che buona seri... Io non tollero le persone che ti salutano solo quando ne hanno voglia... Ciao... Buongiorno... E buona giornata a tutti... Buona giornata anche a te... Dipende da... Con quale piede si sono svegliate la mattina... Cioè... Tutto... Il segreto è lì praticamente... Il segreto è lì... Sì... Sì... Ma perché si parla della gente... Ricordatevi... Ognuno di noi è un... Un elemento prezioso... È una lampadina... Visto che siamo sotto Natale... È una lampadina... Delle enorme serie... Natalizia e luminosa... Dell'umanità... Eh... Ci sono lampadine rotte... Che cosa ci saranno? Le aggiustiamo per favore... Tu mi fai... Ma per te... Per te... Ve la dedico... Ce la dedico... Buongiorno Nabella... Buongiorno Luigia... Sono di nuovo io... Felice da Glasgow... Felice... Come state? Felice da Glasgow... Siamo ben... Siamo ben... Tipo San Antonio da Padova... Sanna Caterina da Siena... Però non mi hanno fatto ancora... Sanna me... Comunque... Per il fatto che dicevate... Che quando a Luigia l'hanno fermata... In mezzo alla strada... E cose... Le persone non si fanno... C'è nemmeno fatta loro... Boh... Non... Zero... 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 È più forte di loro... Ma lasciate stare... Lasciate stare... Comunque vorrei dire... Sì... Le persone vivono... Possono... Devono vivere... Possono vivere come vogliono... Finché non danno facita a nessuno... Però potrei fare... Potrei dire... Potrei fare un piccolo appello... Vai... Potrei discriminare contro quelli... Che mettono gli automobilisti... Che mettono la freccia... Già mentre stanno svoltando... È quel che mettono la freccia a sinistra... E poi girano a destra... Si può fare... Me... Ciao... Ciao Felice... Non ci vogliamo qui... Bravi... Ti vogliamo qui... Simpaticissimo su... Sei troppo forte... Felix... Felix... The cat... The wonderful... Felix from Glasgow... Bellissimo... Felix from Glasgow... Come Elvis... The pelvis from Memphis... In Memphis... Yeah... Dunque stavo dicendo che volevi dire una cosa prima... Che mi hai detto... No... No... Stavo dicendo che comunque voglio ringraziare... Tutte quelle... Vogliamo ringraziare tutte quelle persone... Che ci fermano per stare... O siamo iniziemo... O siamo da sola... Non i vigili... No... No... Quelli solamente... No... Ho detto... Non ci hanno più il fischietto... Solo multe... E basta... E quindi... Quelle persone che ci stanno facendo i complimenti... Per il nostro programma... Perché... Siccome è la nostra creatura... Noi siamo molto orgogliose di questo fatto... Quindi grazie... 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 Lodi... 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 0805019998... Non lo diciamo mai abbastanza... E... 0805014668... Va bene... Oh... Ci piace... Senti... Tutto questo... Senti... Senti... Abbiamo visto che ormai siamo sulla stessa lunghezza... No... Non è l'altra... Preview del gioco... Perché tanto voglio dire... Perché... Chiamate... E poi vi facciamo sentire... La... Chiamate... Sare triciamate... Al momento non vi posso dare neanche suggerire mail... Perché non so capite le canzoni... Appunto... Volevo dire a Titi Gonnella... Mi raccomando... Siccome ho visto che ormai... Comunichiamo bene con le... 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 Le canzioni... Poi trovo una cosa di... Teres Rendarby... Tracy Chapman... Gigi Dalè... Aspetta... C'è una telefona... Almeno male... Va... Pronto... No... No... Eh... Che cosa spoileri Tiziano Gonnella... Eh... Bisogna fare qualcosa... Mi sembra così come sei... Eh... Possiamo? Cosa? Pronto? 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 Con chi parlo? Ah... Dunque con Annabella e Luigia... Noi con chi parliamo? Ah... Ciao Annabella... Ciao Luigia... Io sono Luciana... Luciana... Ciao Luciana... Che piacere... Che piacere... Che piacere... Dici tutto... No? Sì... Pronto... Allora... Volevo dire che... Io ho chiamato stamattina o meglio... Ho mandato un messaggio su Whatsapp... Sì... Per... Io non tollero... Allora... Io non tollero le persone che ti salutano quando ne hanno voglia... Guarda... Noi... È normale... L'abbiamo mandato questo Whatsapp... Eh sì... Ma io ero a fare la spesa... Non l'ho visto... Scusaci... Scusaci tanto Luciana... Se vuoi ti puoi rivedere la puntata stasera in replica alle 21.30... E vedrai che noi abbiamo mandato il tuo messaggio però... In radio alle 11... In radio alle... Ci dicono... In radio alle 18 volendo... Allora... Però aspetta... E volevo dirvi che siete veramente strepitose insieme... Grazie... Però Luciana... Visto che ci siamo... Noi approfittiamo di te... Come mi piacerebbe sentirmelo dire da qualcuno... Ma ormai ho dimenticato... Senti... Visto che ci siamo... Vuoi aggiungere qualcosa... Alla tua tolleranza zero... Nel senso che sei stata estremamente edulcorata... È morbida... Che cos'altro non sopporti... Vorrei dire a queste... Posso dire una piccola parolaccina? Dipende... Se è molto pesante qua ci... Se vuoi che rimaniamo qua non le dite le parolacce perché se no... Usa un sinonimo morbido dai... Vabbè... Allora devo dire una cosa... Che le persone che in realtà ti salutano quando vogliono sono principalmente donne... Quindi delle piccole stronzettine... Vabbè cacca e cacca si può dire non è una parolaccia... Ecco... Secondo te perché fanno... Anzi loro fanno gli splendidi quando ti incontrano fuori... Ma le donne invece fuori dall'ambito lavorativo voglio dire... Sì... Ma le donne invece non so perché fanno finta di non conoscere... E la competizione... Perché se non saranno punite dalla mano di qualcuno... Sì sì sì... Forse la mia... Dalla tua... No no Lucia non cadereci di stile ti prego... Senti Luciana non è che vuoi giocare... Ti facciamo sentire la preview del gioco e giochi con noi? Va bene va bene... Si sa mai... Hai visto mai... Che cosa vinco? Una maglietta... È questa... La maglietta... Non il contenuto eh... La maglietta... Il contenuto lo puoi avere quando vuoi... Va bene... Andiamo? Ma che canzone è? Che canzone è? Che canzone è? Ma che canzone è? Che canzone è? Buuuh... Non si capisce... C'hai capito qualcosa? Qualcosa c'hai capito Lucia? Sono cinque pezzi... Cinque canzoni... No... Pronto? Posso dire che... Boh... Forse... Tu come stai di Baglioni? Sì... Ma aspetta che noi non abbiamo manco capito il gioco... Noi le dobbiamo invitare... Tiziano... Ne dobbiamo indovinare tutte e cinque... Tutte e cinque... Ma comunque c'è... Tu come stai di Baglioni Tiziano? No... Non c'è... Senti Luciana... Una cosa che posso dire... Baglioni sta... Baglioni sta... Lo dico proprio... Però non so che canzone è... Baglioni Tutankamon c'è... Non c'è Baglioni... Permetti di uccidere Pacca... Non c'è Baglioni... Eh? Eh? Tiziano sa Baglioni... Non c'è... Ah non c'è... Eh... Io avrei detto che sa Baglioni... Ma posso sentirla un'altra volta? Sì... Ah non c'è Baglioni... Va bene ragazze... Siete fantastiche... Arrivederci... Hai sbaziendito... Ciao... Ciao Luciana... Ciao Luciana... Grazie... Chiama quando vuoi... Ciao... Quindi non ci sta... Non ci sta... Non abbiamo capito... E sei forviante... Tiziano Connella... Va bene... Questo duo... Capotta... Capotta forte a Tiziano Connella... E nel frattempo noi due... Che si fa? Che si fa? Si manda la... Pubblicità... Ciao... La rubrica del Gossip. Che bell'erri di Durandurani. Che don't feel. E io molto intonata soprattutto. Allora, la nostra Lu che cosa ci racconta quest'oggi? Ebbene, oggi ci andiamo a fare i fatti, diciamo, di tre personaggi. Il primo è Gigi D'Alessio. Eccolo, Gigi. Gigi, non sei se il mio figlio, che si chiama LDA, che non è una droga, è praticamente Luca D'Alessio. Ah, LDA, lui usa l'acronimo per voi. E dunque, quindi Gigi D'Alessio è un papà felice e orgoglioso. Ha voglia di condividere la sua gioia con i suoi 787 mila, lo volevamo sottolineare, 780 mila follower. Follower. E dire che suo figlio, Luca D'Alessio, in arte, LDA, è tra i big che parteciperanno al festival di Sanremo. Buponza, cioè, LDA è uscito l'anno scorso, quando c'è da amici, e mo' è tra i big di Sanremo. Non ci vuole uno da diventare big di Sanremo, anche noi. Ne vedrete delle belle fra poco, noi vi stiamo tenendo il culetto in caldo. Ok, e quindi, LDA, Sanremo, la dedica social di papà Gigi D'Alessio, sempre più orgoglioso di te. Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento, ha scritto il cantante su Instagram, dopo l'annuncio della partecipazione del figlio. Quindi, altro denaro che verrà sfornato e incazzato. E' chiaro, i soldi, dice Vlano, i soldi vanno dove stanno i soldi. Bravo. Piove sempre sul bagnato e affini. Adesso andiamo le zia, le zia, Mara Venier, Mara Venier, Mara Venier. Ci piace tanto, Mara. Che però è in ansia, è in ansia per il marito, che invece è positivo al Covid a Santo Domingo. No, tu pensi che se essere positivo al Covid da San Pio? Non doveva essere agitatissima, scusi. Ma in realtà è passata da un momento di felicità a questo momento, diciamo, di ansia, perché? Perché? Dopo le immagini di pura felicità scattate quest'estate a Santo Domingo e dopo il party scatenato per festeggiare i suoi 72 anni, Mara Venier sta ora affrontando un brutto momento. Il marito Nicola Carraro, che è rimasto nell'isola caraibica, che tristezza, a prendere il Covid e rimanere lì. Terribile il lockdown. Mentre lei è tornata a Roma per i suoi impegni lavorativi. E infatti il risultato positivo al Covid la conduttrice ha condiviso sui social con i suoi follower tutta la propria preoccupazione per la situazione. Mara, stai tranquilla, è ricchi, non succede niente. Infatti, voglio dire, moriremo solo noi poverenti per il resto. E poi, e poi? E adesso andiamo alla figlia di Eros, nonché Aurora Ramazzotti. Bella ragazza, guarda che bella ragazza. Aurora Ramazzotti è figlia di Eros Ramazzotti e Michelle. Assolutamente tantissimo alla mamma, però io preferisco Federica Semplice. E' chiaro, poi manderemo un giorno di questo, una diapositiva anche della signorina Federica Semplice. Aurora Ramazzotti compie 26 anni e papà Eros le dice auguri cucciola mia. Madonna, allora, è stato il compleanno di Aurora Ramazzotti che compie 26 anni e per lei questo è un compleanno davvero speciale. Perché? Perché? Perché la primogenita di Michelle Unziker e Eros Ramazzotti infatti spegne le candeline in dolce attesa. Madonna, se ne è scenduta. E niente, e praticamente il suo compagno si chiama Goffredo Cerza. Eh? Fa vedere? Cerza. Cerza. Vabbè, Goffredo, che è un nomignolo proprio facile e facile da dire. Comunque, gli auguri più teneri sono proprio quelli del papà, perché insomma il papà lo sappiamo come con le figlie femmine, capi? Si sciolgono, si sciolgono. Frecciatina, frecciatina. Noi mamme siamo, diciamo, un po' più... Il pugno duro, il pugno duro, il pugno duro, il braccio lungo della legge. Noi facciamo le cattive e i papà fanno come sempre i buoni. E ci vuole la mongia e la pongia nell'educazione. Comunque, grazie Luigia. Di nulla. Mi piace questa rubrica. Sto lavorando ad altro comunque, ma ci vediamo la settimana prossima, ovviamente. Ok, gli ultimi romantici, Eros Ramazzotti, ma che bravo Gornella. No, veramente, ma... Ma quanto è bravo Gornella, quanto è pronto. Eh, ti devo regalare il panettone a Natale, Gorni. Con il prosciutto cotto, però. Ultimi romantici, saremo solo noi. Eh, vi è venuto il brivido lungo la schiena? Per Baccolina. È inutile. Eros, a prescindere che è Cunas, però è sempre Eros. Ma ci avrà la noidi? No, vabbè, ma già da quanto ne avevo? Diciottante, ne avevo la noida. E non ti operava. Con tutti i soldi che c'erano, non ti operava. No, quello parla proprio così. Però io ricordo, quando usci, impazzivo forte. E a me sì, che quello venne a San Rimo con... Una terra promessa! Un mondo di... Eh, me lo ricordi? Tu te lo ricordi? Non mi piaceva. Non mi piaceva. Non so se hai sentito il suggerimento di... È arrivato il momento di farti la domanda cruciale di quest'ora. Lu, ma che si mangia? Dovete andare a rubare. Voi due proprio a rubare forte. No, ma che lui mi piace tanto. Ha fatto col coltello sul tagliere. Voglio proprio vedere nel gamellino che costi sei portato oggi. C'è il gonnello. Che ti sei portato? Vabbè, come mi piace sta cosa. Domani fatti preparare questa ricetta. Allora... 400 grammi di mezze maniche, una mezza verza, 200 grammi di pancetta, olio, sale e pepe. Allora, per prima cosa tagliamo la verza a striscioline. Basta tagliare. Prendiamo una pentola e portiamo ad ebollizione l'acqua. Poi saliamo l'acqua e facciamo cuocere la verza per 5 minuti. Intanto in una padella con un giro d'olio facciamo rosolare la pancetta. Scoliamo la verza direttamente nella padella. Voi due da domani, quando io dirò la ricetta, vi scavate dalla sottocoppa fuori. Perché la gente non capisce la mia ricetta. Non è vero, la capisce bene. È bellissimo. Scoliamo la verza direttamente nella padella. E non buttate l'acqua di cottura della verza perché ci cuocete la pasta. Come quando fate pasta e cavoli, pasta e ramm. Va tutto a cotto nella stessa acqua così si risparmia e così non avete l'eccedenza. Ripassiamo la verza in padella con la pancetta in modo da insaporirla per bene. E scoliamo la pasta al dente. Nella padella aggiungiamo pepe e un filo d'olio. Amagamati in tutto e serviti a tavola. E così vostra marita, dopo aver messo il primo boccolimbo, il famoso primo boccolimbo, vi dirà. Amore, esci a ballare stasera. A te ti deve venire a giarmi oggi. Ti ha messo quasi a costruire la città. Teni a strendarmi. La pallea, meglio, perché così mi si sgonfia la pancia. Guarda, tutti in piedi, dai a ballare. Bellissimo. Io la ballavo come una scalmanata questa. Tutti la ballavamo. Era bello lui. Mamma, che bel ragazzo. I don't give up to you. Eccoci. Bellissimo. Teni a strendarmi. Quanto ero innamorata di lui. Quando ero giovane. Ti ricordi la canzone quella proprio sexy? Sign your name. Sì. E io immaginavo che mi fidanzavo con lui. Sign your name. Close my heart. I want you to be my baby. Ragazzi, voi ci fate passo davanti. Voi non avete capito niente. Aspetta, continua, continua, io faccio il controcanto. Vai. Sign your name. Non lo so fare più. Non ci riesco. E vedi, cioè, dobbiamo, stava mandando bene. Vai, 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 vai. Sign your name, cross my heart. I want you to be my baby. Beh, vabbè, vabbè. Eh, Tiziano, come siamo andate? È bene, è bene, eh, Tiziano. Comunque, per la prossima volta mi prepari una Tracy Chapman grafica. Come la ricetta dal medico, praticamente. Mi prendo una Tracy Chapman a piccole dosi. Da 2 mg. We love you, we love you, yeah. E niente, ragazzi, domani è l'immacolata. Non ci vediamo. Domani è l'immacolata a Concepcioni. Domani qui, qui, gozzovigliano tutti, gozzovigliamo. Andiamo al pascolo, in realtà andiamo a mangiare un po' di erbetta. Ci rigeneriamo. Come no, noi mangiamo quanti quintali di cibo. E chi non l'ha fatto, perché si dice che il macolazzi fa l'albero. Io domani faccio il mio alberello bidimensionale. Bidimensionale. E niente, ci andiamo a rigenerare. Venerdì verremo cariche a palettoni più degli altri giorni. E ci diamo un appuntamento a dopodomani. E a domani in replica, probabilmente. È chiaro. Comunque siamo presenti. Qualche cosa deve andare. Dunque, che hai detto la notizia? Ah, facciamo una preview del gioco a stare. Eh sì, così almeno l'immacolata loro ci pensano. Studiatela. Va bene, sentiamo le preview. E io che convinto che sia un giubaglio. Cioè, ma veramente, guarda. Va bene, il tempo è tirano. Il tempo è tirano. Noi ci sentiamo. E ce ne dobbiamo andare. Purtroppo dobbiamo, anche perché dobbiamo lasciare Spazio al ciardatano. A Renato. A Renato, Renato, Renato. Così carino, così educato. Non lo so, non la faccio in una poesia. Niente ragazzi, ricordatevi che noi ce la vediamo. Ma noi ce la sentiamo. E voi? Chi cambia canale è un laptop spento. Niente di che. Chi cambia canale, c'è le luci fulminate alla casa. Ciao! Questo programma è presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore. E' un'altra cosa. c'è il nostro programma. E' un altro programma. C'è il nostro programma. Allora è stagia. A presto. È un'altra cosa che si... È un'altra cosa che ne ha è un'altra cosa che è il nostro programma. Grazie.